Buongiorno e ben ritrovati con un nuovo appuntamento di Conti in casa. Oggi parleremo di Pietro Lare grazie all'intervento della dottoressa Nadia Botalla, funzionario archeologo per la soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Biella, Novara, Verbano Cusiossola e Vercelli. Buona visione! Grazie al Museo Conti per avermi invitata a partecipare a questa iniziativa con cui in un certo senso il museo viene a trovarvi nelle vostre abitazioni. Il mio intervento però vuole anche essere una sorta di invito a visitare appena sarà possibile il museo, le sue sale e a osservare con attenzione e curiosità le sue vetrine. Una di queste vetrine è dedicata alla Pietro Lare e proprio di questa classe di materiali vorrei parlarvi oggi. Forse avrete già sentito questo termine Pietro Lare che non è un termine da geologi o da petrografi, bensì una definizione merceologica che comprende tutta una serie di rocce e litotipi utilizzate per produrre olle, cioè pentole, recipienti, da cui appunto deriva il nome. Le Pietro Lare dunque sono un insieme di rocce che hanno caratteristiche comuni quali la scarsa durezza che ne consente una facile lavorabilità, l'inerzia termica, la rifrattarietà che ne consentono un uso peculiare sul fuoco e alle alte temperature. Proprio per queste caratteristiche sin dalla protostoria sono state utilizzate queste rocce per la produzione di stampi di fusione, crogioli, lucerne e soprattutto contenitori da fuoco. Proprio quest'ultima categoria di manufatti è ben rappresentata dall'insieme dei reperti conservati presso il museo, in parte esposti, in parte conservati nei depositi e attualmente in corso di studio da parte mia e della dottoressa Laura Vaschetti. I reperti provengono da Borgosesia, più in generale da contesti del territorio valsesiano e nel loro insieme coprono un arco cronologico piuttosto ampio, con esemplari databili all'età romana e altri invece al pieno medioevo. Tuttavia l'epoca di maggior diffusione di questi manufatti è l'età tardo-antica e alto-medievale. Proprio a quest'epoca, ad esempio, risalgono i materiali rinvenuti presso la grotta della Ciotacara, che oltre ad essere un importante sito preistorico, venne anche occupata in epoca tardo-romana. Dal punto di vista metodologico, lo studio archeologico dei manufatti in Pietro Allare richiede innanzitutto un'attenta osservazione dei reperti. Alcuni presentano ad esempio segni di lavorazione a scalpello. Si tratta di recipienti di forma cilindrica che si caratterizzano per delle prese ad aletta e trovano ad esempio confronto nei materiali di epoca romana della necropoli di Craveggia nell'ossolano. La maggior parte dei reperti tuttavia venne invece realizzata al tornio. Lo si può capire osservando le superfici interne ed esterne che conservano proprio tracce delle solcature concentriche dovute al movimento di rotazione del tornio e alla pressione esercitata dalle punte, solitamente ricurve, utilizzate dagli artigiani per scavare il blocco di roccia da cui si estraevano appunto i recipienti. Le forme sono sul cilindriche o troncoconiche piuttosto semplici e con scarse variazioni nel corso dei secoli, perciò è molto importante poter studiare reperti provenienti da scavi indagati stratigraficamente al fine di affinare il più possibile adattazione di questi manufatti. In alcuni casi le superfici dei recipienti vennero parzialmente lisciate per eliminare i segni della tornitura, in altri casi invece le linee di tornitura divennero un vero e proprio motivo decorativo finendo per occupare le intere superfici con un effetto che viene definito mille righe. La lavorazione al tornio lascia poi altre tracce, in particolare i cosiddetti residui di tornitura ovvero i torsoli o le carote che sono manufatti dalla forma un po' strana a cono e proprio la presenza di residui di questo tipo provenienti da borgosesia lascia ipotizzare la presenza di una bottega di produzione di questi manufatti nell'antica seso. Tra i reperti conservati al museo ancora alcuni presentano tracce evidenti di usura e la roccia talvolta è alterata nella colorazione diventando rossa o con effetti dorati. Spesso queste variazioni sono associate anche a tracce di colature metalliche o vetrose e questo consente di ipotizzare che questi recipienti vennero impiegati come crogioli nella produzione metallurgica o nella produzione appunto vetraria. È significativo che per borgosesi alcuni di questi manufatti provengano da un'area dove è ipotizzata la presenza di una bottega di fonditore in epoca romana o tardantica. Osservando poi l'insieme dei reperti, possiamo ancora notare che le colorazioni delle pietre utilizzate, il loro aspetto esteriore sono molto diversi e non dipendono dalla tecnica di lavorazione, sono proprio delle rocce differenti. Un ambito di ricerca alquanto interessante nello studio della Pietrollare è proprio quello relativo alle indagini sulla provenienza di queste rocce che non si trovano ovunque. Gli affioramenti di Pietrollare infatti sono concentrati sull'arco alpino e riuscire a definire con una buona precisione il tipo di roccia utilizzata per realizzare un manufatto consente di fare delle ipotesi di provenienza. Prendendo in considerazione il tipo di roccia possiamo suddividere i manufatti in due grandi gruppi, cloritoscisti e talcoscisti. Cercando di semplificare un argomento che in realtà è alquanto complesso, possiamo dire che i talcoscisti si concentrano nelle Alpi centrali, ad esempio nell'area Lombarda, e in Piemonte si rinvengono con frequenza nel verbano Cusio-Ossola. Mentre per quanto riguarda i cloritoscisti sono più tipici delle Alpi occidentali, la Valle d'Aosta ad esempio è una ragione ricca di questi affioramenti ed anche in Piemonte sono noti delle presenze appunto di cloritoscisti. Proprio in Valsesia, presso Alagna, sono note cave di Pietrollare che vennero ricordate ad esempio a fine Settecento nell'opera Viaggio attraverso le Alpi del naturalista svizzero Horace de Sussure che nella sua opera racconta che vide un magazzino di lavezzi, cioè marmitte, ed altri oggetti in Pietrollare. La cava e la fabbrica sono ancora più a nord. Comperammo per un Luigi un assortimento di marmitte cerchiate in ferro, erano sette ed entravano l'una nell'altra. Si tratta in questo caso dell'attestazione di una produzione ormai moderna con recipienti realizzati con una tecnica cosiddetta a cipolla, ovvero scavando da un unico blocco di roccia più recipienti di dimensioni di via più ridotte, concentrici l'uno all'altro. Chissà però se questi affioramenti erano noti già in antico e vennero magari utilizzati per produrre i manufatti di Borgosesia, o se invece le rocce utilizzate provengono da altri territori. E chi produsse questi oggetti? Dove? Come venivano commercializzati e per quale ragione in alcune epoche ebbero una così grande diffusione? E ancora quali cibi vennero cucinati con questi recipienti? Come vedete le domande che gli archeologi pongono a questi oggetti sono molte ed è soltanto attraverso uno studio approfondito e sistematico che si possono cercare le risposte. Io vi ringrazio per l'attenzione e alla prossima occasione di incontro. Arrivederci.